Il 16 dicembre del 1944 Benito Mussolini, che non appariva in pubblico da alcuni mesi, decide di lasciare il suo quartier generale a Salò per raggiungere Milano. Qui al teatro lirico, di fronte a 3-4 mila persone osannanti, tiene quello che è passato alla storia come il discorso della riscossa, in cui Benito Mussolini riafferma la sua fede assoluta nella vittoria. Le cose, come sappiamo, andranno poi in modo diverso e del resto gli alleati erano già allora attestati sulla linea gotica a 300 chilometri in linea d'aria da Milano, ma lo erano per scelta degli alleati che attendevano la primavera per poi avanzare, cosa che poi avvenne.